Presidente, parliamo un attimo del discorso del lavoro. Lei come vede che nel lavoro c'è immerso questo tipo di riforma? Cosa bisognerebbe fare? Serve a rilanciare? Oppure, come dicono molti imprenditori, pensiamo prima partiamo dalle imprese e poi vediamo il resto. Allora, ragioni imprenditori, io penso che adesso basta toccare sempre la roba sul lavoro. Ogni governo che arriva, la prima roba urgente si è a legge sul lavoro. Io sono anni... Ma la roba è impressionante, non riesci a organizzare qualcosa perché cambiano come... Cioè, è anche difficile che la gente assorba tutte queste novità. In linea generale, quest'ultimo intervento va comunque nella direzione giusta, cioè si cerca di dare sempre più possibilità alle persone perché si includono nel mondo del lavoro. Ma diciamo, ormai lo dicono tutti, lo abbiamo pensato di una roba banale, il lavoro non si fa per decreto. Cioè, non è che se domani arriva un altro più intelligente, fa un altro decreto, aumentiamo i dipendenti. Cioè, adesso bisogna ripartire e fare delle leggi per lo sviluppo economico. Abbiamo l'Expo, cioè si pensi ad aiutare questo tipo di azioni politiche positive di chi si mette in gioco. Cioè, uno che decide di fare un evento, adesso per tornare al discorso di prima, in azienda da sua e paga lui, perché per carità lo fa per i suoi clienti, è affari suoi. Beh, insomma, sono suoi fino a un certo punto, sono suoi di tutti i dipendenti che ha adesso, di quelli che potrebbe avere domani, per cui tutti dobbiamo tifare che a lui vada bene. Perché per carità, se sbaglia paga lui, ma se guadagniamo, guadagniamo tutti, non guadagna solo lui. Non è vero questa cosa qua. Perché io non ho ancora visto il pubblico impiego che guadagna soldi. Non l'ho proprio visto. C'erano le grandi aziende a partecipazione statale, queste sì, ma cavolo. Ma dici, funzionavano. Certo, ma gli è stato dato tanto a questa gente qua. Cioè, le aziende a partecipazione statale avevano intanto i monopoli, tanto per cominciare lavoravano su quel settore solo loro. Loro facevano una domanda, a loro ve l'ha dato. E sono state fatte le prestituzioni. Sbagliate, sono state regalate, molte aziende, agli amici degli amici. Di qua e anche di là. Questa è una stagione chiusa. Ma non possiamo certo pensare adesso che col populismo generale risolviamo i problemi dell'Italia. Cioè, facciamo associazioni, facciamo gruppi di volontariato e facciamo le imprese. Perché non è così? Cioè, quello che funziona è quando uno si mette in gioco l'idea della responsabilità e della verità. È che tu devi metterti in gioco e se sbagli paghi tu, non paghiamo noi. E se hai ragione è giusto che tu abbia un ritorno su questo, sul tuo investimento. Non hai nessun tetto. Noi dobbiamo agevolarti. Questa è la politica che deve essere fatta. Piaccia o non piaccia? Poi possiamo anche decidere che ci sono dei settori che per l'Italia sono migliori di altri. Perché se andiamo a fare produzioni, quelle di basso livello, dove la Cina, ma senza andare in Cina, anche la Polonia, noi abbiamo un costo di lavoro di 22 euro, allora medio, sto dicendo. In Polonia sono di 6 euro, come fai a competere? Ma i tedeschi furbescamente sono tenuti la Polonia come loro officina. Una volta c'era il Veneto. Bene, il Veneto è riuscito però a progredire. Perché le aziende, soprattutto medie, grandi ce ne sono poche, ma le aziende medie, sono il vero tessuto che sta tenendo in piedi questo paese. Allora, a quelle aziende che dentro hanno la filiera delle microimprese, questo tipo di giro è quello che va aiutato. Il taglio dell'IRAP, lo diciamo non so da quanto tempo. Le tasse sui capannoni che sono infami per la gente, gli metti le tasse sull'uovo di lavoro. Ma sono cose infami e le ispezioni che vengono fatte ormai praticamente tutti i giorni con un'inquisizione che non ha uguali nel mondo. Nel mondo non c'è inquisizione. Qui stanno arrivando orde di ispettori di ogni genere. Cioè, ma dove vuoi andare così? Quando arriviamo all'aeroporto, io arrivo dal Brasile, abbiamo aperto perché si perseguì la internazionalizzazione dell'inzieno, non la delocalizzazione, la internazionalizzazione. Si è aperto i nuovi mercati. Che è una cosa completamente diversa. Cioè vuol dire andare a prendere mercati che diversamente sono chiusi per le loro barriere doganali, che noi magari spesso non abbiamo, non abbiamo reciprocità. Perché non ci facciamo valere nei contesti internazionali? Perché andiamo a fare le corna? Perché facciamo gli sberlefi? Perché andiamo in Europa e parliamo dell'Italia? Ma andiamo in Europa a parlare dell'Europa? Sta campagna elettorale, cosa si è detto dell'Europa? Euro-Sero no, ma non si è detto niente. Perché non sanno niente. Ci sono le commissioni tecniche in Europa. Alex, la Youth Guarantee, che lei mi chiedeva prima, è una grande misura europea per il lavoro. I soldi, metà sono europei, ci sono soldi poi dello Stato e soldi delle regioni. Allora, detto che va ancora un po' organizzato bene il sistema, senza entrare adesso nel dettaglio, che forse annoierei, però la Youth Guarantee è l'occasione, l'idea europea che viene dall'Europa, è l'occasione da dare a un ragazzo entro quattro mesi dall'iscrizione a questo sistema. Il Ministro ha promesso, ha dichiarato che tutto è partito dal primo maggio, se vi ricorderete. Ma sono alcune regioni, forse solo il Veneto se non sbaglio, è partita ufficiale. Ecco, diciamo che insomma, su questo io mi permetterei di dire che le agenzie private per il lavoro dovrebbero essere più coinvolte, perché siamo noi quelli che offriamo il lavoro, perché le aziende si fidano di noi e non dei centri pubblici e dell'impiego, con tutto il bene che li voglio. Nella collaborazione tra noi e loro funziona, ma pensare che dobbiamo investire risorse pubbliche per incrementare uffici che oggettivamente, lo sanno tutti, trovano il 3%, non arrivano certe volte al 3% di posti di lavoro veri, allora forse andrebbero fatte delle scelte diverse. È probabile che, secondo me, i pubblici uffici, l'ufficio di collocamento pubblico, secondo me non va chiuso, ci mancherebbe. Però A, gli si chiede la collaborazione come è stato fatto e ci sono dei centri di eccellenza su questo. Secondo, gli si manda, loro che sono pubblici, nelle scuole, a raccontare cosa sarà il mercato del lavoro domani e a collegarsi con le università e le scuole superiori per avere i dati di quei ragazzi, perché non ci sono, e quei dati poi li passano alle agenzie private, che li trovano nel lavoro e li fanno le proposte, non solo di formazione, perché un giovane può lavorare sempre a formarsi tutta la vita, deve guadagnare dei soldi per vivere, per farsi una famiglia, per essere autonomo. Ha toccato un aspetto cruciale. Porca miseria. Un'ultimissima questione, il ritorno di investimenti, proprio una battuta, perché mi rendo conto che richiederebbe altrettanto tempo poveglia, un acquisto, un investimento. No, poveglia, allora, è stato un gesto veramente un po' sconsiderato da parte mia, di affetto per la mia città. Lì c'era stata fatta un'asta del demanio a zero lire, cioè senza base. Perché questo? Perché ci sono delle prescrizioni, e voglio chiarirlo bene, che impegnano chi compra, e verrà scritto nel lato del rogito, a fare investimenti dai 20 ai 40 milioni di euro. E adesso vanno fatti però. Se non sono io, perché magari non sarò io l'assegnatario, adesso io pretendo, a nome di tutti, che vengano fatti, se l'associazionismo, o chi per esso, o il comune, mi pare di capire, che tutti dicono lo facciamo noi adesso, non si capisce come in 30 anni nessuno si ricordava. Adesso, siccome c'è un investimento, io avevo detto facciamo un centro per i disturbi alimentari internazionale, a livello mondiale, e molti medici locali erano contentissimi di partecipare a questa esperienza. Sono malattie mentali, di fatto, che prendono i giovanissimi. È una piaga, e qualcuno, non so se lo faceva per sbeffeggiare, o non si è reso conto di cosa dice. Io credo, piuttosto a questa seconda cosa, che è ancora più grave, perché non sanno di cosa parlano. Hanno detto che non vorrebbero che la gente venga a fare le diete, cioè non sanno cosa sono i disturbi alimentari. Cioè parliamo di gente che forse ha un baretto e vuole gestire. E allora bisogna spiegare che per risolvere quella roba lì ci sono un parco archeologico che da trent'anni la gente ci fa le grigliattine sopra. Cioè l'isola deve restare pubblica, sì, ma adesso, da domani, adesso sappiamo tutti il disastro che c'è lì. Ci sono 18 edifici vincolati alla sovraintendenza, che in questo caso sarebbero stati rimessi a posto. Nell'altro caso qualcuno deve sistemarli. O lo fa il demanio, o lo fa il comune, o lo fa l'associazione. Qualcuno deve farlo. Io mi sono candidato a farlo e ho i soldi per farlo. Ma siccome non va bene, forse qualcuno vuole continuare l'andazzo di prima, lì ci sono i ferri grossi così arrugginiti. Abbiamo visto, io non lo sapevo perché andavo solo a farmi il bagno davanti, perché è un'acqua bellissima, che deve restare pubblica. Come l'accesso all'isola deve restare pubblico. Sono uno scemo, pensa di chiudere. È nelle prescrizioni di gara. Per cui non puoi dire i 500 mila euro dell'aggiudicazione, perché comunque sono di più di 160 mila che ho visto offrire da qualcuno che invece si lava la bocca. Ma detto questo, c'è l'impegno, l'obbligo, aggiungo l'obbligo, da gara, di ristrutturare gli edifici e il parco archeologico. Tre sovrintendenze hanno messo i cosi, immaginatevi voi a Venezia, più l'uso pubblico previsto. Bene, adesso qualcuno tira fuori dai 20 ai 40 mila euro, se no ne risponderà il futuro ai loro figli. Per quell'isola là così non deve più restare. Adesso tutti questi grandi soloni che hanno messo 100 euro a testa, adesso vanno là e vanno a tagliare l'erba e vanno a recuperare gli edifici, perché non basta solo per fare le grigliate. Quell'isola là è di tutti e deve tornare a essere di tutti, perché Venezia è metropolitana ed è di tutti. Ma perché è stato contestato, visto che è stato un imprenditore veneto peraltro? No, io personalmente devo dire che non sono stato particolarmente contestato. Il problema è che probabilmente siamo sotto elezioni e tutti vogliono prendere voti. Siccome c'è grande generosità, molti miei amici hanno aderito a questa colletta, giustamente, io a questa gente posso soltanto dire grazie, perché sono bravissime persone. Stiamo attenti però a non farci strumentalizzare dalla nostra bontà, perché non basta la bontà d'animo, il gesto generoso di 100 euro. Purtroppo non basta per risolvere i problemi di quella natura. Allora, non può essere che un'amministrazione corre dietro sempre a tutta sta roba qua, perché comunque sono voti, perché comunque sono strumentalizzazioni. Perché poi, alla fine, le cose verranno fuori e deve venire fuori. Vuoi vedere che alla fine si rifà l'asta e la vince veramente l'americano e potrà fare e chiude l'albergo? A quel punto, chi mi risponderà? Un sindaco che forse non sarà più lì, un'amministrazione che dirà che è stato qualcun altro, l'associazione, i buoni, i validi di turno. Chi risponderà di questo? Chi è che alza la mano? Gli è stato chiesto, avete 20 milioni, che poi è il minimo di 20 milioni, forse sono 40, che bisogna tirar fuori rapidamente, perché stanno venendo giù i tetti di roba vincolata. Gli tira fuori il demanio, perché se domani mattina, come potrebbe essere, non aggiudicano l'asta, perché con queste turbative varie che ci sono, intanto io non me la metto via. Secondo, cominciano a mettere a posto lì, perché davanti al mondo intero tu non fai cadere tutta quella roba lì, perché c'è qualcuno che ha detto che noi siamo buoni. Perché allora adesso a quella gente dico, vi ipotecate le case e sistemate. E allora saremo i primi ad andare a applaudire questa cosa, perché è una cosa bellissima, che venga fatto, che ci dicano anche i progetti. Perché il mio di un polo sanitario l'ho detto, voglio sentire il resto perché non ho capito, se c'è l'idea del bareto, dei costicine, mi sembra un po' poco. E lo dico con tutto il rispetto di tutta la gente generosa che pensa che a Venezia deve essere di tutti, deve essere pubblica, deve essere aperta. Purtroppo però, oltre alle idee, ci vogliono anche le risorse e ci vogliono la concretezza delle cose, cosa che spesso non c'è. Ultimissima cosa, ritornando al discorso dell'Expo, che però si collega con tutto un sistema, anche metropolitano, infrastrutture e viabilità. È un altro dei grandi temi che non sembrano venire risolti in prossimità di un arrivo così importante e di flussi. Devo dire, allora, intanto, se noi parliamo col mondo, noi abbiamo degli aeroporti che funzionano, e devo dire sinceramente molto bene, parlo di quello di Venezia, ma il sistema con Treviso, con Verona, può funzionare in un sistema ortoportuale. Abbiamo un sistema dei porti che se sblocchiamo qualcosa, tutte queste pulemi che sembra che non ci sia la possibilità di mettersi d'accordo, io credo che a tutta questa gente dovremmo appuntare il dittino a tutta la classe dirigente, dicendo, voi risponderete se perdiamo tutto il traffico crucialistico, perché questa roba qua si chiama vendetta. Per cui, inutile che andiamo a cercare altre cose quando non riusciamo neanche a risolvere le cose minime che abbiamo. dobbiamo aumentare un po' di percorrenza dei treni, secondo me è urgente fare l'SMFR, cioè, l'hanno realizzata, ma secondo me va collegata con Chioggia, con Portogruaro, con orari che la gente possa utilizzarli, da metropolitana, devi mettere molti treni dentro, forse, anzi, senza forse, bisogna far passare la TAV, perché in Val Brembana, dove è? Quindi sì, è la TAV. Ma sicuramente, solo che deve passare sul binario, non deve fare scavi strani, far giri assurdi che costano miliardi. Vai in affiancamento, fai la stazione internazionale, la fai a Marghera, sulla parte dei binari larga che c'è a Gazera, oppure a Gazera, o a Catene, scusate, oppure più avanti, però lungo la linea, e lì poi, assolutamente, facendo un grande investimento sulla stazione TAV, che poi verrà collegata dall'SMFR con l'aeroporto, ovviamente, con il centro storico, eccetera, però in quel luogo ci sarà il grande rilancio di Mestre, con Marghera e Gazera, perché è Ghezzellarino, perché questo grande investimento potrebbe risollevare le sorti di tutta una città che si sta impoverendo, via Piave, zone via Cappuccina, dove la gente si chiude dentro, la gente si sta chiudendo dentro, cioè invece che... Non ti fa le piazzate, noi proprio padroni a casa nostra, non serve fare promesse, basta andarci a parsi, bisogna cominciare ad agire, poche chiacchiere, meno polemiche, inutili, hanno aperto la piscina, una cosa lodevole alle ragazze islami, ma basta con queste polemiche sciocche, che vadano e hanno una cultura un po' diversa, l'importante è che rispettino la legge e lavorino, punto, arresto, si trovano soluzioni, noi siamo un incrocio di culture, le donne devono essere messe al primo posto, i giovani al primo posto. Assolutamente, non abbiamo più tempo a disposizione, Presidente, la ringraziamo, abbiamo cercato nel pochissimo di prendere considerazione il mare magno di questioni, la inviteremo presto per un approfondimento, magari anche in un contesto articolato in prima serata, così avremo un modo anche di approfondire con altre voci, perché il discorso dell'Expo merita veramente attenzione, merita anche la dovuta divulgazione, perché deve essere assolutamente un'opportunità anche per il Veneto. Grazie. E deve essere colta, quindi le auguriamo assolutamente buon lavoro in questo senso, e speriamo che gli input siano sufficienti, anche se dovranno riascoltare la puntata su web a rallentatore, perché sono tantissime le cose che ne sono emerse. Grazie ancora, buon proseguimento, noi ci vediamo domani.